Resi, fanghigno, smorfia, vediamo la placca dentaria, è flemmatica, questa è dimagrita 83 kg nell'arco di 5 ore, una cosa impressionante, mi salta tensione, invece vediamo le vene glaciali, pronti, via, le vediamo sparire, le vediamo sparire, Michele ce le riconsegneranno, noi ci speriamo, si chiude quella porta, non sa chi tornerà,